Mi è concesso di togliermi la mascherina qui davanti, anche perché non c'è nessuno a un metro. È positivo mantenere le regole che ci sono date? Voi sapete che in certi Paesi hanno preso quasi con ironia quello che sta succedendo e ne stanno pagando in alcuni Paesi un prezzo altissimo. Non menzioniamo i Paesi, ma saprete queste notizie. Vorrei invitarvi a un momento di preghiera personale. Vi chiederei a ognuno di voi di rivolgere una preghiera a Dio. Stamattina, a che ora devo finire Riccardo? A mezzogiorno, va bene. Il tempo è sufficiente. L'altra volta mi hanno detto 25 minuti, però oggi il testo che voglio riflettere con voi è il capitolo più lungo della Bibbia, il Salmo 119, che credo conosciate tutti, perlomeno dove è messo e quanto è lungo. Non è uno di quei salmi che si legge facilmente e frequentemente, ma come la volta scorsa vi dissi che ho terminato una serie di riflessioni assieme ai fratelli della divisioni sui salmi, abbiamo avuto la possibilità di approfondirli. Diciamo approfondirli è una parola pesante, perché non si approfondisce mai sufficientemente. Per questo motivo vi invito a chinare il capo, a chiedere a Dio di aiutarci a capire qualcosa in più di questo salmo. Poi dopo un po' io terminerò con una preghiera a voce alta. Signore nostro Dio, vogliamo chiederti questa mattina di disporre i nostri cuori, le nostre menti ad ascoltare questa parola che è molto antica nel tempo. È una parola, Signore, che sicuramente ancora oggi ci dice, ha qualcosa da dirci. Per questo ti chiedo la guida, l'assistenza del tuo Spirito, affinché anche quest'oggi ci nutriamo di qualcosa per la nostra anima, per i nostri pensieri, per la nostra vita spirituale. Dirigi la nostra attenzione nel nome di Gesù. Amen. Questa mattina mi farò aiutare da delle immagini, da delle diapositive. Salmo 119, è lì, lo vedete. Questo salmo ha tante caratteristiche. Intanto è un salmo che veniva cantato nelle sinagoghe, e non soltanto nelle sinagoghe. Voi sapete, avete sentito parlare, so che avete avuto qui un programma sui rotoli del Mar Morto con il fratello Coni, della Casa di Riposo. Non so se vi è stato detto, quei rotoli sono stati copiati, quelli biblici e scritti da una comunità. Oggi il pensiero generale che si accomuna è quello che si è stato scritto dalla comunità degli Esseni, un gruppo come i farisei, come i saducei, come gli zeloti, come gli scribi, che non è menzionato però nella Bibbia. e una delle caratteristiche di questa comunità è che sono stati raccolti circa mille rotoli sull'Antico Testamento e i due libri che sono più menzionati sono il Deuteronomio e il Libro dei Salmi. Sono state trovate più copie, questa è la parola giusta, più copie di questi due libri. Dei Salmi loro ne avevano 250 perché ne componevano altri, facevano parte del loro innario e il Salmo 119 era il Salmo che si leggeva in particolari occasioni, si cantava in particolari occasioni. Questo Salmo ha alcune caratteristiche. È un Salmo acrostico, poi vi dirò cosa significa. il fatto che è acrostico è di per sé un'opera d'arte. Vado subito avanti e vi mostro cosa significa acrostico. È diviso in 22 sezioni. Ogni sezione è composta da 8 versetti, ogni sezione comincia sempre con la stessa lettera. Vedete questa è la Aleph, questa qui è la Bet, la seconda sezione, poi abbiamo il Gimel, la terza sezione che sarebbe A, B, G, se vogliamo tradurli in italiano. Ogni paragrafo quindi comincia con la stessa lettera dell'alfabeto, ogni riga comincia con la stessa lettera. Abbiamo 22 paragrafi, ogni paragrafo di 8 righe, il che fa semplice la moltiplicazione, 176 versetti che sono quelli che voi trovate nel Salmo. Salto oltre, vi ho detto che era un Salmo cantato, vi ho detto che era un Salmo che imparavano a memoria. Era abbastanza lunga la recita a memoria, però dovete sapere che noi purtroppo stiamo perdendo l'abitudine di imparare a memoria. Io quando facevo le elementari, forse qualcuno di voi avrà fatto la stessa esperienza, ci obbligavano a imparare a memoria. È successo anche a voi, no? Imparare a memoria non è soltanto per fare proprio, perché molte volte si impara a memoria e non si capisce il senso. Roberto Benigni ha imparato a memoria, la Divina Commedia l'ha spiegata anche. Imparare a memoria era perché non era non era così diffusa la possibilità di avere i testi. Oggi noi leggiamo in continuazione, poi con questo strumento che oggi tanti hanno, se non questo il telefonino, abbiamo subito lì a portata di mano. Per cui non dovremmo, potremmo dire che non abbiamo più bisogno di imparare a memoria, ma imparare a memoria rinforza la memoria. Imparare a memoria previene certe situazioni di mancanza di memoria. Imparare a memoria fa bene, allena il muscolo che gestisce la memoria, che è il cervello. Era un salmo che era molto meditato, un salmo che costituiva testo di studio, di riflessione e di approfondimento. Adesso voglio darvi una... non abbiamo il tempo di leggerlo. Io me la sono riletto stamattina come mia meditazione, ma anche proprio in funzione del fatto, anche perché non è che in pochi minuti si legge. A me piacciono il salmo 1, il salmo 37, il salmo 23, chi non conosce il salmo 23, il salmo 141, il salmo 143, il salmo 100. Questo mi piace pure, adesso che l'ho letto diverse volte, anche se vi devo dire non è fra i salmi che ho letto di più. L'ho letto di nuovo stamattina e ho aggiunto una diapositiva stamattina, perché ogni volta che lo rileggo ne scopro una cosa nuova. Stamattina mi sono letto soprattutto il tema centrale di ognuna delle 22 parti. Me lo sono letto tutto, con particolare attenzione ad ogni paragrafo. Ed ecco qua cosa ne è venuto fuori. Cosa abbiamo in questo salmo? Ogni paragrafo, vedete che c'è la lettera dell'alfabeto? Il primo, io devo guardare qua perché là è troppo piccolo per i miei occhi, il primo è un'espressione di ringraziamento e di beatitudine per il dono della legge. Ora vedremo che non si tratta solo della legge, però per rendere la cosa più spazio nella riga ho messo la parola L maiuscolo che sta per legge. Poi vedremo perché ho messo solo legge e mentre ce ne sono altre. Il secondo paragrafo, benedizioni per le fedeltà, per la fedeltà che il Signore dava loro alla legge. Non sappiamo chi è l'autore, si pensa Davide ma non sono tutti d'accordo, non c'è scritto in questo salmo chi è l'autore e l'autore esprime il ringraziamento per le benedizioni che ha ricevuto dalla legge. Il terzo paragrafo ce ne sono altri paragrafi che fanno la stessa affermazione, la bellezza della legge, la bellezza degli statuti, la bellezza delle testimonianze, queste sono le varie parole che si utilizzano in questo salmo. Il quarto paragrafo è una parte che è preghiera, è una richiesta di aiuto a comprendere la legge, a vivere la legge. Il quinto preghiera per essere fedeli alla legge. L'autore si rende conto che ha bisogno dell'aiuto di Dio per essere fedele alla legge. Poi abbiamo fatto a richieste, a impegni e ringraziamenti, c'è questa alternanza continua, l'impegno ad essere fedele e ad amare la ribellazione di Dio. Poi abbiamo conforto per il gran dono della legge che l'autore riceve. Vorrei dire Davide, ma siccome non è scritto che è Davide, anche se la maggioranza dei salmi li ha scritti Davide, l'autore esprime il suo ringraziamento per il conforto che ha ricevuto dalla rivelazione divina. I grandi benefici per quanto la legge, la parola di Dio, le testimonianze hanno offerto come istruzione. Poi abbiamo un altro ancora, ecco qua, saggessa, intelligenza dalle lezioni della legge. Infine la prima colonna, la legge è stata un conforto, la parola di Dio è stata un conforto, vedete se vi dico legge, parola di Dio, poi ripeto, vi spiegherò perché. Nei momenti di difficoltà è stata una guida, una luce nei momenti di oscurità. Tutto passa, la vita con le sue vicende passano, ma eterno solo è quanto di Dio ci ha dato, la legge di Dio. Conoscenza e intelligenza nella legge. Vedete, ripete in qualche modo, ci sono dei paragrafi che non con le stesse parole ma rivelano, riprendono gli stessi concetti. C'è gran intelligenza nel conoscere la legge. E questo è un dato anche scientifico oggi. Oggi la scienza ha fatto negli ultimi secoli, nell'ultimo secolo, negli ultimi 150 anni, ha fatto degli enormi progressi perché si è cominciato a studiare partendo dalla comprensione dei principi che sono alla base del funzionamento delle cose. Conoscere quei principi rivela la legge delle cose e che si permette di vivere e di trarne beneficio, di trarne luce e vita. Un altro paragrafo presenta la sicurezza e la protezione che si ha seguendo le indicazioni della volontà di Dio. Un altro ancora, c'è giustizia, c'è crescita, c'è progresso in obbedienza alla legge di Dio. Bellezza e meraviglia e grazia nella rivelazione divina. Verità, giustizia, santità e bontà sono le indicazioni di Dio. Vi ricordate che c'è un testo di Paolo ai Romani al capitolo 7 che dice che la legge è buona, il comandamento è santo, giusto e buono. Riprendo un pochino il concetto di questo paragrafo. Tutto è incerto, stabilità l'abbiamo soltanto nella rivelazione di Dio. Altro, tutto muore, vie vita solo nella rivelazione di Dio. E questo testo, se voi andate a vedere questa parte, 153, dal verso 153 al verso 160, non 60, 160, e beh, ho messo tutti così. Tre volte in questo paragrafo è scritto dammi vita secondo la tua legge, dammi vita attraverso la tua parola. Le tue testimonianze mi danno vita. La penultima è una confessione delle benedizioni ricevute, è un anelito ad essere sempre più immedesimato con la rivelazione di Dio. E infine l'ultimo è una richiesta di aiuto, una supplica a camminare. Ecco qui, se avessimo dovuto leggerlo tutto e sottolineare queste cose ci avrebbe messo tanto tempo. Ecco qui il contenuto generale di questo Salmo. È un gran contenuto, è una gran cosa. Ora, in questo Salmo abbiamo diversi concetti. E qui adesso vi sottolineo alcuni di questi concetti, poi li esigeremo. Primo concetto, ecco, abbiamo la parola decreti. Io vi ho detto legge, 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 ma non sempre vi è la parola legge. Per esempio vedrete che la parola legge non è neanche in tutti i paragrafi, mentre c'è una parola che è in tutti i paragrafi e più volte in alcune occasioni. La parola decreto nella lingua italiana c'è una volta sola. Poi abbiamo giudizi. La parola giudizi, i tuoi giudizi sono meravigliosi. Alla fine del Salmo c'è questa espressione. La troviamo 17 volte. Abbiamo 21 volte l'espressione testimonianze. E questa parola testimonianze è in qualche modo in parallelo con un'altra parola, quella che la troveremo più spesso, che è la parola parola, la parola di Dio. Poi abbiamo precetti, 21 volte. Sono parole distinte nella lingua originale, non è una traduzione fatta a volte traducendo in un modo, a volte nell'altro. Ci sono esattamente parole da cui provengono questi concetti. Un altro, statuti. Vi ho detto un pochino di più. Testimonianze, progetti, statuti sono più o meno nella stessa maniera. Molte di più è la parola legge, comandamenti. Abbiamo in tutto 22 volte la parola comandamenti, ma adesso perché ho detto molto di più? Perché subito dopo abbiamo la parola legge. Legge e comandamenti sono più o meno la stessa cosa. E quindi è molto di più che i concetti precedenti, che sono questi tre. Ma tutti questi sono molto di meno della parola che c'è di più. 42 volte abbiamo parola e 82 volte è presente la parola, la scrittura, il termine che indica la parola di Dio. In generale nei salmi e in questo salmo, soltanto in questo salmo, abbiamo 42 volte. Perché ho messo 37 più 5? Perché una volta è una parola, l'altra volta è una derivazione di quella stessa parola. In fondo, in fondo, anche se io ho messo legge, 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 ho messo la L. Vedete che in generale il termine più diffuso di questo salmo non è la legge, è la parola di Dio. Anche se potremmo avere di più aggiungendo la parola, sommando alla parola legge la parola comandamenti, che come ci siamo detti praticamente sono la stessa cosa, però la parola parola, il termine parola è quello che c'è di più. E qui abbiamo un insegnamento fondamentale. È un insegnamento che necessita una riflessione chiara, attenta da parte nostra. Il ruolo della parola. Ho qui tre considerazioni conclusive di questa diapositiva. La centralità è l'autorità della parola. È estremamente importante nel libro dei Salmi e soprattutto in questo Salmo. Secondo, tre volte, il Salmo 119 menziona l'ostilità alla parola. Uno dei versetti dice, proteggimi, perché hanno abbandonato la tua legge. Hanno abbandonato la tua parola. Tre volte. E alla luce di questo, voglio adesso aprire una parentesi, mi mancano ancora una dozzina di minuti, per dare fondamento a questo insegnamento. C'è stato un teologo svizzero, Alfred Kuhn, che ha scritto alcuni libri sul Nuovo Testamento. E in un libro, dal titolo Io costruirò la mia chiesa, il titolo è la citazione che Gesù, la citazione dell'affermazione che Gesù fa quando, parlando a Matteo, dice su questa pietra edificherò, costruirò la mia chiesa. Alfred Kuhn ha scritto un libro sullo Spirito Santo, un libro sui doni dello Spirito, un libro sull'organizzazione della chiesa, è un libro sulla chiesa primitiva. In quest'ultimo libro dice, se vogliamo che la chiesa di Dio sia veramente chiesa di Dio, deve costruirsi su quello stesso principio che Gesù Cristo ha utilizzato per costruire la sua chiesa. E lui dice, deve essere la chiesa per essere chiesa, deve essere chiesa secondo il Nuovo Testamento, secondo il Vangelo, secondo il Nuovo Testamento. Alfred Kuhn sottolinea l'importanza che nella chiesa primitiva, nel Libro degli Atti, ha l'importanza che ha il termine parola. Se vi fate una ricerca personale oggi con gli strumenti che abbiamo, il termine più diffuso, più presente nel Libro degli Atti degli Apostoli, è la scrittura, la parola, come in questo Salmo. E l'autorità fondamentale a cui noi possiamo fare riferimento per capire il ruolo della parola è Gesù Cristo. Mi sono cimentato negli ultimi 12-15 anni a capire tutto alla luce di Gesù Cristo. Un sabato che mi trovavo qui, coincidenza non voluta, si presentava attraverso il video, non so se non si fa più il video, lo riprenderanno. Quella mattina era Elvira che parlava in quel video, non so se sei sempre stata tu, ho visto quello. E in quel video si presentava un libro che ho scritto, che è stato pubblicato in inglese e poi tradotto anche in italiano, Il Cristo incomparabile, non so se qualcuno ce l'ha. Mi sono cimentato attraverso la ricerca che mi ha portato alla scrittura di questo video. Sono i nostri studi biblici. Ognuno dei 28 nostri studi biblici, dottrine fondamentali, ho cercato di capire come questa dottrina ci porta a Gesù Cristo, come questa dottrina ci aiuta a capire Gesù Cristo e cosa Gesù Cristo ha detto su questa dottrina. E la cosa che studiando il Nuovo Testamento per noi diventa estremamente interessante, i Vangeli, è quello che Gesù ha detto sulla Bibbia. Uno potrebbe dire sì ma l'ha detto Isaia, l'ha detto Giacomo. No. Chi ha dato maggiore autorità alla Bibbia, alla parola di Dio, è la parola fatta carne. È Gesù Cristo. Alla tentazione. Gesù Cristo avrebbe potuto rispondere, contrastare il tentatore usando parole sue. Sapeva parlare, attraeva l'attenzione della gente con la sua parola. Ma Gesù, il testo ci dice, ha ribattuto soltanto dicendo sta scritto. Nel primo sermone, il sermone sulla montagna, ha fatto un'affermazione sulla Bibbia che voi trovate soltanto in maniera molto più generica, una volta nell'Antico e una volta nel Nuovo Testamento. Ficché i cieli dureranno, neanche un apice o noiota della parola sarà cambiato. Ma queste sono soltanto due delle tante affermazioni di Gesù. Ce ne sono alcune ancora più forti. In Giovanni 10 voi trovate, credo, l'affermazione più forte che Gesù ha dato sulla parola. Quando interpellato è accusato perché si era innalzato a figlio di Dio, Gesù dice ma sta scritto nella vostra legge, voi siete dei. Vi ricordate l'affermazione? Ora Gesù dice sta scritto nella vostra legge e subito ci fa pensare al Pentateuco. Ma Gesù cita un testo dei Salmi. Significa che nella comprensione che Gesù ci vuole trasmettere, tutta la parola di Dio è espressione della volontà. un po' d'acqua per favore. La parola di Dio nel suo messaggio generale. Aspetto l'acqua. tutta la parola di Dio è affermazione della volontà di Dio. Naturalmente la parola ci racconta dei fatti, ci racconta di episodi, ci parla di comportamenti umani che sono in contrasto. Ma l'insieme è rivelazione della volontà di Dio. Questo ha detto Gesù e questo lo afferma in quel testo di Giovanni X dove dopo aver detto sta scritto se non arriva l'acqua non riesco a andare avanti. Forse devo andare a prendere la fontana. Arriba. Gesù dice sta scritto nella vostra legge, cita un capitolo dei Salmi e poi dice tutto questo è parola di Dio. Non esiste in tutta la Bibbia un'affermazione così categorica sul ruolo della parola di Dio. Gesù dice che è parola di Dio che elegge il libro dei Salmi. Ma l'argomento più autorevole che noi abbiamo sulla Bibbia da parte di Gesù è successivo, è dopo la sua resurrezione. Vi ricordate con i due discepoli di Emmaus prima e con gli undici discepoli qualche settimana dopo? Gesù li rimprovera di non aver creduto a ciò che era scritto nella legge di Mosè, negli scritti, nei Salmi e nei profeti. Le tre raccolte, i tre rotoli che comprendevano l'intero Antico Testamento. E se autorità Gesù la aveva e sicuramente ce l'aveva, massimo della sua autorità la espressa, la esprime dopo la sua resurrezione. Gesù risolto dà questa autorità alla Bibbia. Ora, quindi il testo che abbiamo sott'occhio questa mattina si combacia benissimo con quello che Gesù ha detto sulla parola di Dio. Adesso voglio leggere alcune di queste belle affermazioni. Come potrà il giovane rendere pura la sua via badando ad essa secondo la tua parola. Apri gli occhi miei e contemplerò, ci sono all'inizio vedete, ci sono il numero del versetto. Contemplerò le meraviglie della tua legge. Togli via da me l'insulto e il dispresso perché ho osservato le tue testimonianze. Tieni lontana da me la via della menzogna e nella tua grazia fammi comprendere la tua legge. Questo è un testo interessantissimo. Al di fuori della grazia di Dio è difficile capire il significato profondo della legge. Tieni, ecco qua, avanti, ce l'ho messo due volte. distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità e fammi vivere nelle tue vie. Mi raggiunga la tua bontà, oh Signore. Salvami secondo la tua parola e avrò di che rispondere a chi mi offende perché confido nella tua parola. Questo mi è di conforto nell'afflizione che la tua parola mi fa vivere. Uno dei testi che parla del vivere in armonia con la parola. Versetto 55 Ricordo il tuo nome nella notte, oh Signore, e osservo la tua legge. Versetto 63 Io sono amico di tutti quelli che ti temono, di quelli che osservano i tuoi precetti. È stata un bene per me l'afflizione subita perché imparassi i miei statuti. Mi fermo qui, salto la diapositiva successiva perché voglio andare alla conclusione. Quattro lezioni fondamentali abbiamo in questo Salmo. Primo, conoscere la legge. Indico lì i versetti, l'importanza di conoscere la parola di Dio. Conoscere, studiare, approfondire. C'è un quadro che ho visto da qualche parte, dove c'è una persona anziana con la barba e i capelli bianchi, al lume di candela, con la Bibbia, e c'è una frase sopra, ancora imparo. L'avrete visto forse questo quadro. Ancora imparo. I uomini dell'altezza di Isacco Newton, anche di Einstein, di Cristoforo Colombo, o di musicisti come Beethoven, o di artisti come Benigni stesso, hanno espresso delle cose straordinarie sulla grandezza e l'importanza della conoscenza della Bibbia. La seconda parola, il secondo pensiero, che troviamo nel Libro dei Salmi è meditare. Grazie. Non ce n'è ancora. E qui c'è qualcosa che come avventisti, come credenti in Cristo, abbiamo bisogno di imparare. Qualcuno di voi ha sentito parlare, quello che lavora con la rivista Vita e Salute, Berrino. Berrino ha scritto diversi articoli sul potere guaritore, soprattutto per la depressione della meditazione. La Bibbia usa centinaia di volte la parola che è tradotta anche con meditazione. Berrino fa una confusione fra confusione. Lo esprime, il suo pensiero, mette assieme meditazione e preghiera. Ma nella Bibbia sono due parole diverse. Esistono oggi delle scuole di meditazione. L'Università di Modena, con il professor Romagnoli, ha messo su una facoltà di meditazione scientifica. Purtroppo la meditazione viene dall'Oriente, che è una meditazione centrata su se stessi. La scrittura ci invita a meditare la parola di Dio e Dio. Vi ricordate il Salmo 1? Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. E su quella legge, vi ricordate, medita giorno e notte. E c'è un testo nei Vangeli che è tradotto pregare, ma non è la parola proseucheo, è un'altra parola che significa meditare. Descrive Gesù che dopo essere stato un giorno in mezzo alla folla, si ritira la sera sul monte a meditare. Meditare fa bene alla mente, alla psiche e al corpo. Sarebbe interessante approfondire questo tema. È un tema che sarà affrontato nel prossimo congresso mondiale che il Dipartimento Salute della Divisione sta organizzando. Meditare, il secondo concetto. Testo, camminare. Camminare, secondo la legge. La legge, la parola Torah, non ha soltanto il significato di precetto, di comandamento, di ordine. È la via. È il camminare. È il modo di vivere. E poi, quello più presente, osservare. Conosciamo i testi, osservare i comandamenti di Dio. Ma permettetemi di dare una sfumatura che il termine osservare offre. Questo termine osservare lo troviamo applicato non soltanto ai comandamenti di Dio. Lo troviamo applicato, per esempio, in Genesi 4, quando il Signore chiede a Caino, dov'è tuo fratello? Il Signore sapeva. Ma chiede a Caino per farlo riflettere. Vi ricordate la risposta di Caino? Sono forse io il guardiano di mio fratello? Ebbene, la parola guardiano è la stessa parola che altrove è utilizzata per osservare la legge. Osservare la legge non è soltanto obbedire alla legge, è custodire la legge, è difendere la legge, è promuovere la legge, promuovere la cultura della legge, o la cultura della legalità. Stamattina riflettivo con Laura su qualcosa che stiamo vivendo tutti, per cui avete le mascherine. E Laura mi ha detto che dove non ci si attiene alle regole riprendono i contagi. E ho notato quanto siamo diversi noi italiani approssimativi nel tenerci alle regole rispetto per esempio a quello che sto vivendo in Svizzera. In Svizzera, l'ho detto, due metri di distanza. E fanno di tutto per attenersi. Qui è un metro, lì sono due metri. E' molto difficile mantenersi due metri. Infatti nelle chiese, la chiesa dove stamattina c'è andata mia moglie, hanno sistemato le sedie da poter ospitare soltanto il 60% dei membri, ma in maniera tale da mantenere la distanza. Un giorno passeggiavo con mia moglie perché non era impedito passeggiare e mia suocera, allora io ero con mano alla mano con mia moglie, per cui la gente non mi ha fatto osservazione. Mia suocera era davanti, dietro, eravamo assieme, le persone si allontanavano a due metri quando camminavamo lungo la strada. Ed è per questo che secondo alcune statistiche offerte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, benché l'Italia sia il paese che si è dato da fare moltissimo, i contagi in proporzione non sono migliori di quelli della Svizzera. in Svizzera ci si attiene alle regole e noi come credenti siamo chiamati a difendere la legalità, difendere la legge, non soltanto dire ah io la osservo, ma c'è anche un ruolo di promozione dei principi e dei valori di una cultura della legalità. Questo è il messaggio che volevo condividere con voi questa mattina e a questo vi invito, spero di avervi messo il desiderio di studiare, di leggere questo salmo, vi richiederà 20-25 minuti, se volete poi anche magari soffermarvi sulle parole ci mettete come io stamattina quasi un'ora, ma è un salmo arricchente che fa parte di un bagaglio che il Signore chiede a chi si identifica come discepolo del Signore. Ci alziamo per una preghiera finale. Signore nostro Dio ti ringraziamo per questo salmo l'abbiamo avuto fra sotto gli occhi tante volte ma a volte la sua lunghezza ci ha scoraggiato ma è una perla o Signore di insegnamento per uno stile di vita promotore sano qualificante. Aiutaci a essere Signore non per dovere ma per onore per diritto per la gioia di volerti essere fedele ad essere tutori garanti della legalità promotori della legalità promotori della tua parola perché ad essa tutto si rifà. Ti chiedo di aiutarci in questo nel nome di Gesù. Amen. grazie a tutti. 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 Un buon sabato, una buona settimana e appuntamento a sabato prossimo. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.